Bene, è una cosa così leggera, però avrebbe un significato profondo se l'avesse cantata Dino Zandebou perché è il primo vincitore dell'Adriana Adriatico e anche nel cinquantesimo anniversario di questa grande manifestazione. Io ho fatto così una cantatina ieri sera con lo spirito di fare una ricreazione durante la scena. Ora però di mattina così, coinvolgimi un'altra volta, mi sembra un pochino pesante, però... Di pesante non c'è niente, di pesante ci sono altre cose pesanti, questa roba simpatica, andiamo, veloce! Allora che vorresti? Che te la sentassi per davvero? Bene, mi lascio il microfono. Allora, dedico alla pirena adriatico, adriatico, ho scritto la canzone perché c'è qualcosa, non so, eh. Bene, chi mi fate? Un applauso di incoraggiamento? Allora, in omaggio alla pirena adriatico, ho scritto questo. Cos'è? Vieni qua, dai, scusami. Parti dal mare, arrivi adesso, della Tirreno hai fatto un pezzo. Mani! Il giorno dopo, giù a pedalare, nell'Adriatico c'è da arrivare. Ma ancora prima di andare là, il Terminillo devi scala, poi lui di corsa, San Benedetto, e dove lì ci sarà il verdetto. Tanto entusiasmo, tante emozioni, per 50 anni di gran campioni. E questo è un dato da ricordare, se fossi San Benedetto, direi così, col primo vincitore che è qui a cantare. Signori, un applauso, no, no, di più, di più, di più, di più. Complimenti davvero, ragazzi.